L'associazione Centro Studi Parvati si occupa di percorsi di crescita personale. Uno degli scopi del Centro Studi Parvati è proprio quello di promuovere il simbolo della pace di Nicholas Roerich, che è questo simbolo, con questo cerchio della cultura, e all'interno tre sfere. Una rappresenta l'arte, l'altra rappresenta la scienza e l'altra rappresenta la spiritualità. Quest'anno abbiamo deciso di fare questa festa un giorno di pace in un quartiere periferico di Torino, in Italia, che si chiama La Falchera. E' stata una festa meravigliosa perché abbiamo coinvolto un'orchestra di piccoli bambini. E' organizzata da un'associazione che si chiama Pequeñas Huesas, piccole impronte, piccole orme. Questa associazione si occupa proprio di diffondere la musica, di dare musica nei quartieri periferici, ai bambini perché possano crescere con la musica, la musica per la pace. Un amante cambia il rumbo, il camminante, e anche questo le cause daño, e così come tutto cambia, che io cambio e non è extrano, cambia, tutto cambia. Cambia, tutto cambia. E' stato un onore per noi la presenza del professor Franco Berrino, che ovviamente rappresentava la scienza di queste tre sfere. E' stato molto importante la presenza di tanti bambini perché, secondo noi, seminare pace e buoni pensieri nei bambini, nelle piccole generazioni, è fondamentale per un nuovo mondo, una nuova cultura di pace, una nuova civiltà. Cambia, tutto cambia. Cambia, tutto cambia. Cambia, tutto cambia. Cambia, tutto cambia.